Allora adesso invece passiamo ad aggiornarci sulla conversazione di stasera che sarà questa volta, io spero veramente, illuminata e grazie alla sagacia, alla cultura anche dell'amico Riccardo Pazzaglia che qui vediamo. Vorrei cominciare con te Riccardo, solo un piccolo aggiornamento, lanciaci il dado, cioè dici di che parleremo stasera, a proposito di dado non è fatto male a nominarlo perché già so che tu con il dado vai subito a finire al brodo primordiale. No, voglio ricaricare la storia del brodo primordiale perché molti continuano a pensare che sia un'invenzione, mentre invece il brodo primordiale è praticamente nostra madre, è il brodo madre. E' perché quando c'erano le terre emerse, attorno alle terre emerse c'era una massa liquida che i biologi chiamano brodo primordiale, i mari dice Catalano. Ma non era ancora, era brodo, era brodo, non era ancora mare, vero e proprio. Nel senso che era caldo? No, era un brodino, come dire, tiepido perché poi c'erano i vulcani che da sotto lo riscontavano per spiegare come è formato un brodino tiepido. Un brodino tiepido è poco riscaldato, non è né caldo né freddo. Allora dicevamo, però stasera non parleremo del brodo primordiale. Volevo chiarire una cosa a proposito del bagno, che lì davanti io mi sono trovato proprio per fatalità, non perché io dovevo andare nel bagno e tu mi hai sorpreso lì, volevo chiarire questa faccenda ai telespettatori perché io sono un signore e queste cose non le faccio. Come fai? O almeno non le faccio a casa degli altri. Come non le fai a casa degli altri? No, come fai quando succede a casa degli altri? Niente, mi astraggo e così cerco con l'esercizio... La ragazza è bella cate con l'aria di terra cacini perché scusa... No, ma con l'esercizio dell'intelligenza si può rimandare. Rimandare? Sì, ho capito. Io vedo che la trammissione sta sempre più scendendo... Nello scatologico, perché io l'ho spiegato ieri cos'era, è scatologico, è scatologico. Ho capito. Quello di cui stiamo parlando è scatologico. Ho capito. Va bene, tu stai menando il camperlaia perché non vuoi dire l'argomento di stazione. No, no, io lo dico subito. Allora, dillo. Io lo dico subito. Dunque, beh, insomma, è una grande idea. No, dillo. È una grande idea. Il perdono è la migliore vendetta o la vendetta è il miglior perdono? No, perché io una volta mi facevo un quaderno su cui scrivevo tutti quelli di cui mi dovevo vendicare. C'era anche Bracardi. Però ogni tanto perdevo il quaderno e mi trovavo che non mi ricordavo più con chi mi dovevo vendicare. Per cui, certe volte, mi vendicavo su certe persone che invece mi avevano fatto del bene. Quindi io dico che la vendetta deve essere fatta subito, se uno la vuole fare. Ma questa è un altro discorso. Invece il tema della sera è la migliore vendetta e il perdono. Punto interrogativo. Ecco, punto interrogativo. Per favore, Armand, spiego ai nostri fratelli che sono sempre più numerosi. Ho visto che Armand ha portato di nuovo stasera questa... Armand? No, faccelo vedere. Eh, all'armacalè. No, faccelo vedere. No, all'armacalè. Però, guarda che tutto il pubblico è incuriosito per capire... No, il volto. All'armacalè. No, solo per vedere il volto. No, all'armacalè. All'armacalè. Ma faccelo vedere che tutto il suo splendore. All'armacalè, all'armacalè, all'armacalè. 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 All'armacalè, la gambe. All'armacalè. Non possiamo fare la sedia. All'armacalè, la gambe qua. Così la tratti. Ah. Eh? All'armacalè, al'armacalè. Ah. Guarda. All'armacalè, al'armacalè. Eh? Non è tuo culo. No, che è un mila. Stai avanzato, la faccia. Della faccia, galdà. No, la faccia. No, non va, non va, non va, non va, ma è il Dio. Certo. Allora, ma è il Dio, va, fermo. Attenzione. Allora, ma. No, io lo voglio dire, poi qualcuno ci taccerà di essere antifeminista, purtroppo non è colpa nostra, se voi trattate le donne così, però... Che bufà! Che bufà, non lo so. Ma cosa c'entra con la vendetta? No, non c'entra niente, infatti non abbiamo affrontato il tema. C'entra col perdono tutta la prima. Non abbiamo affrontato il tema. No, alberi, guardi, sono un pochettino seccatucci di questo, vedere queste ballarine nudi. No, no, no. Con l'obelisco di fuori. E' un uso che... Con l'obelisco di fuori. No, con questa danza del vento che fa... No, perché? Ma non fa, non c'è malizia. È un comportamento spocco, non è un comportamento pulito. Alba, calma! Che l'arma c'è? Che l'arma c'è? Nuta! Che l'arma c'è? Non è un comportamento. Barbagalla, è un po' fatto. E' una specie di striptis. Come? Uno striptis che non condivido. Non è uno striptis. Uno striptis che l'obelisco nuto. Tutta, mi sembra un pochettino un comportamento spocco. Invece io volevo dire che le lettere non sono arrivate, tutti ci scrivono, non è arrivata manca una lettera del concorso Cuore Toro 1985. Si padre, però, si fa fare la figura anche pure a noi, perché noi abbiamo detto, per distinguersi dalle altre commissioni che fanno tutti, scrivete, cartolini, vincete, 600 milioni, 800 cose, 400 cose, facciamo delle opere buone noi di quelle della notte che siamo più buoni degli altri. Abbiamo sponsorizzato la Rai, Radio Ascoltatori Italiani. Questo concorso Cuore Toro con grande festa a Scasazza, provincia di Agrigento e Trapani. Questo non l'ho capito, la provincia dove diavolo è, di Agrigento o di Trapani? E Trapani, tutte e due perché c'è un bilancio. Ah, c'è una contestazione, Trave. Poi ci sono i premi, ci sono cinque premi, cinque manali, premi cinque manali perché andiamo di lunedì e venerdì, ogni cinque giorni. Ah, non ci sono i premi il sabato e la domenica, quindi non sono settimanali ma cinque manali. Cinque premi in paglia, ecco i premi. I premi in paglia, vediamo quali sono. Primo premio. Il cappello di Firenze. No, 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 signor Albrecht, li leggo qui. Primo premio, secondesimo premio, terzo premio, quarto premio, ultimo in fundo, quinto premio. Questo è il premio. Questo è il premio. Domani non scrivere, vada la cortesia perché di questo passo. Concorso Cuore Toro, 1985. Scusa Perini, io non ho capito, io vorrei soltanto sapere da te, proprio perché. Tu hai capito questa storia dei premi di padre e di frate Antonino? No, non lo capisco ma mi adegua. Gliel'ho chiesto apposta perché hai visto che c'è stato addirittura. Già ci sono le disquisizioni sui giornali, oggi è uscito un giornale con un'altra disquisizione sulla importanza di questa frase nella vita sociale del paese, proprio. Non lo capisco prima di te. Quello lo dice la parola stessa, scusi l'importanza, quello lì lo dice la parola. Allora Ferri, dimmi la verità. Aggiorni un attimo sulla tua vendita di pedalò, oppure se ti piace almeno la conversazione di stasera. Dimmi quello che vuoi. No, è stato 0 più 0, 0 poverino. Perché sono stato fatto tutta la zona del Terminillo, il Passo del Furlo. Mi sono fatto dalla Suma. Per vendere i pedalò. Sì, ma è successo quello che non doveva succedere. Un uomo solo ha un po' di mozione, ma sono cose, sono dispiaceri, perché io ho vent'anni di servizio. Non hai venduto neanche un pedalò. È successo che abbiamo incrociato questa macchina che era targata a Napoli. Beh. Insomma, noi abbiamo questi sette silos. Vieni di? Di pedalò. Alla Cesenautica. Vieni di pedalò che c'è tutte le sue finiture, capito? Tutto cartone presciato, lavorato a mano, che ci costa quello che ci costa. E ci troviamo con un silos in meno. No. Non vorrei. No, pazzaglio, no. Dipendici tu. Ho capito che vuoi dire. Siamo non stati dal perdono, dalla vendetta. No, ma tu oggi, poverino, lui l'è stato visto la show, perché lui, io ho visto tutta la documentazione che lui oggi si è mosso. Guarda, guarda qui c'è la documentazione. Lui si è mosso quattro volte. Da dove? Da casa. Ma non è un uomo libero? Ma perché devi pensare che in piedi si va a fregare i pedalò? E' stato una fatalità, guarda. Perché ti sei alzato in piedi innanzitutto? Perché in bagno innanzitutto hai fatto una figura che è quello peggio di così, poverino. L'ho portato a riparare. Che cosa? Il bagno. Le bretelle. Non c'ha le bretelle. No, l'ho portato a riparare. Si reggono lo stesso i bandalò. Me le danno fra due giorni. Non te li fa capire più sempre il bagno. Non te li fa capire più sempre il bagno. Pura combinazione. Era una combinazione. Non c'entrava niente né con i pedalò e nemmeno con il perdone e la vendetta. La cassaforte è quello che è. Tu fai delle figure che ci sono dei centinaia di milioni di miliardi di persone che ti guardano. C'è anche una certa età. La storia di Assalonne vorrei raccontare a proposito del perdone della vendetta che aveva i capelli lunghi. E lascia stare via Assalonne, via Topazio e via Dalmatio. Guarda, io la sera di solito mi piace andare. Io mi la faccio. Non ho capito perché due fratelli come di sangue, tutti italiani, un meridionale e un settentrionale. Perché dovete sempre andare? Guarda che i pedalò, lui non ha che farsene. Non ha che fare, ma lui è stato fotografato da questo sputnik sovietico. Lui era di profilo. Davanti al bagno, davanti al bagno. C'è un cinetelefoto obiettivo che sono milioni di carati in questo obiettivo. Non esistono proprio, guarda, non ti capisco neanche io. Non lo capisco neanche io. Preparatevi sul tema. Domani sera. La miglior vendetta è il perdono. Dove lo mettiamo il punto interrogativo? Allora, ma al... Lo possiamo mettere su tua moglie il punto interrogativo? Allora, ma al... No, è punto interrogativo. Allora, ma al... Allora, ma al... Allora, ma al... E noi passiamo... Allora, ma al... Allora, ma al... Allora, ma al... Allora, ma al...